buongiorno a tutti ragazzi sul canale siamo ancora qui nel nostro incantato magico mondo di Hogwarts siamo all'interno della scuola e nell'ultimo episodio siamo andati avanti con la storia ovviamente siamo nella casata dei serpeverde livello 22 magari livello 2 hanno 1 capitolo 2 e per il resto siamo ancora a 0 perché non abbiamo sbloccato praticamente quasi niente e nello scorso episodio dicevo siamo andati avanti con la storia abbiamo imparato l'incantesimo lumos quest'oggi dovremo imparare la pozione cura bolle quindi noi ci andiamo siamo qui nei sotterrani come potete vedere casa di serpeverde adesso ancora non ci interessa siamo nell'aula di pozioni esplora allora aula di pozioni siamo qui con il nostro fantastico professore esploriamo un attimino l'aula come vedete qui praticamente adesso non c'è ancora niente se non il nostro professore allora il professor piton ci dice questa è la vostra prima lezione di pozioni e dallo sguardo sconcertato che avete potrebbe benissimo essere l'ultima diversamente dalle altre lezioni qui non si agita la bacchetta in vano non si rovinano i nomi degli incantesimi siete qui per imparare la sottile scienza e l'arte esatta della creazione di pozioni stregate i sensi e magliate la mente tenete la bocca chiusa questo mi raccomando importantissimo ragazzi perché non vorremmo incappare in spiacevoli inconvenienti oggi prepareremo una semplice pozione cura bolle oddio semplice lascialo decidere a noi sappiate che esigo la perfezione e che ci saranno gravi conseguenze per chi mi delude cioè tutti praticamente iniziamo credi di essere tanto speciale ma il tuo successo è già assicurato gamer cioè io cosa dovrebbe significare lo vedrai merul mi ha già rotto le palle abbondantemente come personaggio forse ha superato anche rowan ignorala dopo essere stati l'improverete da piton dobbiamo preparare questa pozione perfettamente dunque adesso avremo la pozione da imparare quindi clicchiamo sul nostro professore pozione cura bolle abbiamo due stelle per superare il test praticamente abbiamo un'ora di tempo quindi adesso andiamo ad iniziarlo dimostrazione vediamo un po come funzionerà inizia la lezione per iniziare la preparazione dovete avere una tecnica perfetta ok quindi ci mostri come funziona ok questa sarebbe la tecnica mi piace mi gusta lui usa la bacchettina come vedete qui è bello che è in pipetta allora tini d'occhio la nostra maga merula vediamo un po guarda piton non è svitato va bene merula però anche insomma meno è che dici tu che dici che dici un attimino insomma più rispettosa non ci dispiacerebbe allora scegli ricompensa io a questo punto sapete che vi dico che penso di scegliere una gemmozza così siamo a 8 come totale non costringetemi a ripetere concentrati noi siamo belli che concentrati insomma adesso se ci dai un attimino è troppo tardi addios niente da migliorare è purtroppo mi fai passare mezzo secondo soltanto non mi devi tempo di far niente è lo solo solo scusami preparati a ultimare la pozione va bene finita la pozione quanto prima voglio vedere quanto siete scadenti nella preparazione della ricetta perfetto quindi dobbiamo ultimarla io cliccherei sul libro ricontrolla ok perfetto ci sta dietro abbiamo questi arambicchi raccogli va benissimo rimettilo qui abbiamo guarda continuare a fissare la pozione non ti aiuterà a renderla migliore della mia attizza il fuoco che comunque ci sta dovremmo avercela fatta si prendiamo un punto energia perché ce ne abbiamo un po pochini effettivamente sono curioso di vedervi tentare di preparare la pozione quindi prepariamoci ad ultimarla allora facciamo il nostro bel segnetto magnifico pozione completata dunque non so perché lui rida come criminale però nuovo livello ingegno livello 2 molto 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 bene dunque abbiamo completato con due stelle perfetto raccogli e andiamo avanti con la storia pozione completata forse game non è del tutto incapace e beh direi di no noi saremo lo studente migliore quindi direi di no ho preparato la mia prima pozione congratulazioni per quanto ne so quasi nessuno ha mai preparato bene questa pozione la prima volta cosa sta succedendo aggiunto polvere di bubo tubero questo mi pare l'inizio di una relazione esplosiva da bubo tubero esplosiva infatti successo del casino totale congratulazioni curato le bolle del tavolo non avresti mai dovuto essere ammesso nella mia aula sì ma c'è dammi un attimo frate insomma era dai tempi di tuo fratello che non vedeva un serpeverde tanto imprudente 10 punti in meno ecco a posto alcune scelte richiedono attributi di un livello specifico questa scelta di terzo richiede un livello di coraggio pari a 2 ma sei solo al coraggio livello 1 ok ottieni punti attributi migliore livello compiendo scelte e andando a lezione dunque è colpa sua non possiamo dirlo e io a questo punto di ei mero lei mi ha sabotato si abbiamo non messo il calderone assumiti la responsabilità della tua incompetenza lo faremo a merole ha minacciato nel mio amico dicendo che aveva fatto qualcosa per farmi bocciare mi teme perché ha paura che sia più potente di lei questo è vero è certo che no è pazzo contro il suo fratello altrettanto deciso a rovinare Hogwarts sì ti te lo d'occhio per garantire che tu faccia lo stesso effettivamente io non avrei creduto ad occhi chiusi a lei però insomma noi non portiamo un buon nome sulle nostre spalle fatto la cosa giusta dicendogli di merula certamente avresti perso più punti dalla casa se non glielo avessi detto andrà sempre peggio avresti saputo avresti dovuto saperlo che ricoprendo il cardellone con la polvere avresti fatto esplodere la pozione io lo sapevo ma che ti prende siamo tutti e due in serpeverde ci ha fatto perdere dei punti prefesco perdere i punti ora che è lasciarti rovinare serpeverde per sempre non c'è dubbio che io sia la più importante del primo anno mentre tu non sei altro che una vergogna come tuo fratello lei ci tiene a rimarcare questa cosa comunque ragazzi ci tiene a rimarcare che siamo una vergogna che è nostro fratello di qui nostro fratello di là potete andare ne ho avuto abbastanza di tutti voi per oggi ho perso 10 punti cosa succederà quando torno nella sala comune è adesso boh non lo sappiamo benvenuti ad Hogwarts capitolo due completato 50 unit e 170 punti esperienza abbiamo portato a termine due capitoli su dieci due due livelli su dieci due abbiamo ottenuto come gemmozze ricompensa affrontare i guai dopo aver incontrato la bellicosa serpeverde merula snide di ritrovare il modo di ricoperare i punti della casa che hai perso va bene iniziamo dunque siamo andati avanti cura boh l'abbiamo ottenuta riferisci tutto a felix ok se mi fai andare via si diciamo che ci siamo vediamo un attimino siamo giunti a livello 3 qui abbiamo qualcos'altro si abbiamo la pozione bella che riscossa anno 1 ce ne mancano ancora 3 per completare l'anno dopodiché siamo qui come vedete parte 1 di 6 della storia capitolo 3 il tuo prefetto vuole sapere cosa è successo la lezione di pozioni quindi dobbiamo andare a parlare con il nostro felix dopodiché c'è una lezione vedete evoca la scopa che dovremo imparare più tardi dunque andiamo dal nostro felix e sentiamo che cosa ci dice tu sei serial gamer giusto si tu chi sei ben copper sono al primo anno come te volevo solo dirti grazie per esserti opposto a merula snide chi ti ha detto che l'ho fatto stavo guardando dal fondo del corridoio la stavo seguendo in modo che non potesse arrivarmi alle spalle e in modo che se mi avesse visto almeno avrei avuto una possibilità di scappare però c'è una fascia tristissima ciccio mi ha tormentato per tutto il viaggio su low words express fino a qui continuavo a minacciarmi e a chiamarmi sangue marcio mi dispiace bene terribile merula ossessionata dall'essere la migliore strega del nostro anno e crede di doverci imporre la sua prepotenza per dimostrarlo sono davvero felice che qualcuno abbia avuto il coraggio di affrontarla io di certo non ce la farei è ridicolo che mi abbiano messo grifondoro tutti hanno paura di qualcosa ben si infatti c'ha ragione il nostro gamer purtroppo io ho paura di tutto vengo da una famiglia di babbani e tutto questo è nuovo e spaventoso ok potrebbe essere comprensibile comunque quello che lui ci sta dicendo in questo momento però nel momento in cui tu sei entrato a dog wars dovresti un attimino renderti conto del posto in cui sei so come ti senti io vengo da una famiglia di maghi ma è difficile anche per me cercherò di aiutarti in ogni modo possibile ci si vede in giro ok dunque ragazzoli chiari prima di andare avanti nella nostra casata dei serpeverde ed iniziare poi la capitolo 3 la nuova missione del capitolo 3 parte 1 di 6 io direi che possiamo concludere qui l'episodio ci vediamo un prossimo video auguro a tutti quanti voi una buonissima serata e ciao a tutti ragazzi ragazzi